Moriero, nel primo tempo avete un po' sofferto il Teramo, poi avete avuto quell'occasionissima per pareggiarla, arrabbiato, rammaricato? Abbiamo fatto la nostra partita, c'è sofferto fino a un certo punto, che comunque sia avevo deciso di abbassare il baricentro, la squadra ha fatto un ottimo possesso palla, ci sono state delle trame importanti, potevamo fare con qualcosa di più nell'attaccare la profondità, abbiamo fatto un tocco o due in più, però stiamo lavorando. Io ho visto una squadra in crescita, una squadra che ha giocato col cuore, una squadra che si è misurata contro una grande squadra, perché comunque sia il Teramo è una grande squadra, sapevamo che anche loro erano in difficoltà, io non credo che oggi la Cavesi abbia dimostrato di essere inferiore al Teramo, ce la siamo giocata a modo nostro, è normale che dobbiamo migliorare, perdere fa sempre male, però anche delle sconfitte comunque bisogna imparare. Oggi abbiamo imparato secondo me che ce la possiamo giocare contro tutti e questa deve essere la nostra mentalità, è normale che anche nelle piazze comunque sia che ti devi salvare, la sconfitta fa sempre male, però io sono convinto che i miei ragazzi cresceranno ancora di più, perché se questa è la Cavesi, io sono convinto che faremo passi da gigante. Bisogna avere pazienza perché siamo alla quarta partita, come ce le abbiamo noi, le difficoltà ce le hanno le altre, però ho visto una squadra di carattere, una squadra che ha giocato, ha tenuto il possesso palla, dovevamo magari attaccare di più la profondità, questo è vero, abbiamo avuto la sfortuna magari di subire anche il secondo gol, un euro goal, e lì non è che possiamo fare miracoli. Abbiamo avuto anche l'occasione di pareggiare, c'è stata la traversa, c'è stato l'episodio sfortunato, però questo fa parte del calcio, perché il calcio è fatto di episodi, però quello che mi interessava è che la squadra rispondesse dopo la brutta prestazione di domenica, per cui vedo una squadra in crescita, c'è da lavorare, però oggi sono buoni segnali. Secondo lei la sua società comprende tutto questo che noi condividiamo? Sì, sì, ho parlato prima con il Presidente, mi ha detto che ha visto una buona squadra, che ha visto una squadra che ha espresso anche delle buone trame, è normale che dobbiamo migliorare, di stare tranquilli, di lavorare, ma questo fa parte del nostro mestiere, essere messo in discussione, però se questa è la squadra e questa è la cavese, che io in mente già le ritiro, questa squadra crescerà ancora di più. Tu sei più soddisfatto oggi nella sconfitta che domenica scorsa pareggiandola? Sì, come prestazione non c'è proprio da discutere niente, perché l'avete vista anche voi, c'è la squadra che ha giocato a calcio, è una squadra che comunque deve credere ancora nelle sue potenzialità, è una squadra che sta crescendo partita dopo partita, è normale che settimana scorsa abbiamo giocato male, però abbiamo pareggiato, oggi hai giocato bene e hai perso, il calcio è pure questo. Però il Teramo non è il Rendenz? Assolutamente, assolutamente, penso che comunque sia loro ci hanno rispettato e avevano anche un po' di paura, perché loro venivano anche da due sconfitte, noi siamo ancora la quarta, io ho fiducia nei miei ragazzi, ho fiducia nella società, come la società ha fiducia nello staff. È normale che perdere non fa bene ai tifosi perché vorrebbero sempre vincere, però in questo momento sono io al timone e mi prendo tutte le responsabilità, però se perdere così a testa alta, certo ti ripeto, fa male perché non meritavamo assolutamente di perdere, però di fronte a un error goal o un errore individuale dove comunque c'è una punizione e li fai ripartire subito, questi sono errori che purtroppo bisogna limare.